Musica Ha stato molto interessante, un dibattito aperto, quello dell'intelligence, soprattutto con tutti i rapporti del territorio. Noi abbiamo parlato del rapporto con le università, che si stanno intensificando moltissimo, hanno solo l'esperienza delle altre nazioni. L'intelligence ora attingerà sempre di più le università, quindi fare un'apertura verso un cross-flow dell'intelligence non è una rettiva idea, anche se riteniamo che superare certe difficoltà di mentalità e culturali non sarà un'operazione semplice. E poi abbiamo visto che la situazione evolve, ma l'intelligence copre un vasto settore, come ci è stato spiegato bene questa sera, invece anche l'economia e i rapporti ovviamente con gli altri stati. Io credo che si apre una fase nuova, cioè questo terrorismo ci costringe poi a pensare anche a tantissime altre cose. E per queste tantissime altre cose l'intelligenza gioca un ruolo mostramente importante. Grazie a tutti.